Musica Buonasera, apriamo questa seconda edizione del telegiornale con la cronaca giudiziaria Guai per Gianfranco Miccichè, peculato e truffa aggravata col divieto di dimora a Cefalù per l'ex presidente Gianfranco Miccichè indagato dalla procura insieme con il suo assistente parlamentare d'autista nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza a Palermo avrebbe utilizzato l'auto blu per andare nella sua casa al mare ma anche con passaggi ad altri amici vediamo un po' nel dettaglio avrebbe utilizzato l'auto blu per fare la spesa e come taxi privato fra Palermo e Cefalù indagato con l'accusa di peculato, truffe e false attestazioni l'ex presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, attuale deputato regionale di Forza Italia al politico è stata notificata oggi la misura cautelare del divieto di dimora a Cefalù il parlamentare avrebbe usato per fini personali l'auto che gli era stata assegnata per svolgere le funzioni istituzionali a Miccichè inoltre i magistrati contestano anche di aver confermato per ben 76 volte false emissioni di servizio dichiarate da Maurizio Messina, dipendente dell'Ars che gli faceva da autista una truffa che avrebbe portato nelle tasche dell'assistente, anche egli indagato, per lui disposto l'obbligo di dimora a Palermo e Monreale indennità non dovute per 10.736 euro con l'audi della regione sistematicamente parcheggiata a casa dell'autista per 33 volte tra marzo e novembre del 2023 Miccichè avrebbe fatto viaggi privati, sarebbe andato a fare visite mediche avrebbe dato passaggi nel tragitto Palermo-Cefalù e viceversa a componenti della sua segreteria a familiari e a persone assunte nello staff politico e in realtà impiegate nelle più disparate mansioni dalla pulizia alla manutenzione della piscina alla derattizzazione il veicolo sarebbe stato utilizzato, secondo l'accusa, anche per portare al politico la cocaina e per far di recapitare il cibo acquistato al ristorante dell'amico Mario Ferro lo chef poi indagato per spaccio di droga nell'ambito di un'inchiesta che svelò che il deputato più volte si era rivolto a lui per acquistare sostanze stupefacenti l'Audi faceva la spola anche per far avere a Miccichè medicine e oggetti vari l'ex presidente dell'Ars avrebbe avuto una gestione arbitraria e del tutto personalistica dell'autovettura scrive il Jeep che ha disposto il diveto di dimora secondo il giudice il deputato avrebbe adibito il suo autista a conducente, a corriere, a portaordini e a trasportatore rimanendo nella propria residenza di Cefalù e dunque nemmeno salendo a bordo dell'autovettura spiega ancora il magistrato, Miccichè disponeva che l'autista svolgesse più e più volte il tragitto fino a Palermo e viceversa per accompagnare il suo factotum o recapitargli due teglie di pasta al forno per il suo compleanno per accompagnare la moglie o consegnargli un dispenser da sapone per recapitargli un bidone di benzina per la consorte rimasta a piedi o consegnargli un imprecisato cofanetto ma anche per portare il gatto dal veterinario o recuperare il caricabatterie dell'iPad ogni viaggio, prosegue il giudice, comportava un impegno dell'autovettura per almeno 4 ore durata che, per come è emerso in relazione agli altri capi di imputazione consentiva all'autista di ottenere una retribuzione supplementare per l'attività effettuata andrò a spiegare tutto ai magistrati, ha commentato Miccichè alla DN Cronos io non credo di aver commesso atti illeciti se è un illecito dare un passaggio a mia moglie porso ho fatto qualche leggerezza ma nulla di grave Miccichè alla Villa Ammare a Sant'Ambrogio a Cefalù dove trascorre tutta l'estate e dove vive anche durante l'anno sto andando a Palermo, ha affermato ancora perché se arresto a Sant'Ambrogio rischio magari l'arresto allarme baby gang, 4 giovani aggrediti e picchiati uno di loro è finito in ospedale è successo a Palermo così come anche a Cireale dove sabato scorso è scoppiata una rissa nell'area com con un ragazzino al quale è stato anche rotto un braccio sentiamolo nel dettaglio le immagini riprese da alcuni residenti mostrano il momento del pestaggio avvenuto poco dopo le 3 di notte davanti la prefettura di Palermo in via Cavour zona piena di telecamere 4 ragazzi di età compresa fra i 17 e i 27 anni vengono presi di mira da una baby gang l'aggressione fisica è preceduta da insulti e provocazioni alle quali le vittime cercano di sottrarsi si allontanano, vengono inseguite e da lì in poi partono le botte una violenza inaudita dietro la quale non c'è un reale motivo un perché solo vani pretesti per accanirsi ad avere la peggio il più grande dei quattro il 27enne intervenuto per difendere il fratello di 17 anni viene sbattuto a terra e preso a calci e pugni dal branco nel corso dell'aggressione sbatte la testa trasportato all'ospedale Buccheri Laferla ha riportato un trauma cranico dall'attack emergono inoltre contusioni in diverse parti del corpo costole, mandibola e ginocchio il fratello più piccolo che se l'è cavata con qualche graffio su viso e collo è rimasto invece sotto shock spintonato e preso a calci e pugni anche un terzo dei quattro ragazzi aggrediti ad avvertire le forze dell'ordine sono state le stesse vittime la polizia è giunta sul posto nonostante le urla nessuno è intervenuto mentre era in corso il pestaggio è venuto la notte tra sabato e domenica scorsa i genitori dei ragazzi aggrediti hanno sporto denuncia la squadra mobile sta indagando le vittime non sono state derubate responsabile del fatto potrebbe essere una baby gang del Borgo Vecchio un'altra aggressione che ha visto protagonista una baby gang si è verificata sabato scorso nell'area com 10 Reale un'accesa discussione tra ragazzini è sfociata in una violenta rissa e non sarebbe la prima qui un minorenne ha riportato una frattura ad un braccio medicato e ingessato all'ospedale Santa Marta e Santa Venera è stato già dimesso Nell'ambito della campagna nazionale di contrasto alle truffe agli anziani il comando dei carabinieri della compagnia del Cireale in accordo con la diocesi a Cese ha intrapreso una serie di incontri in chiese e parrocchia della comunità per informare gli anziani sul crescente fenomeno dei raggiri ai danni di persone sole ed indifese vediamo Nell'ambito della campagna nazionale di sensibilizzazione delle truffe agli anziani il comando compagnia dei carabinieri di Cireale ha intrapreso un capellare percorso di comunicazione nelle chiese e parrocchie cittadine d'intesa con il vescovo della diocesi Monsignore Antonino Raspanti che ha concesso a conclusione delle funzioni religiose incontri con gli investigatori dell'arma opportunamente formati incaricate di illustrare le svariate tecniche utilizzate dai truffatori e fornire così consigli mirati alla prevenzione rispetto ad un fenomeno in crescita che suscita allarme sociale e impone risolutezza in una cattedrale gremita l'occasione della domenica dedicata alle celebrazioni delle cresime è stato il capitano della locale compagnia Domenico Rana a prendere la parola spiegando le modalità attraverso le quali le truffe vengono attuate con l'impiego di subdole tecniche di raggiro prospettate abilmente da malviventi specializzati di cui è stato tracciato un preciso identikit solitamente si muovono in coppia ben vestiti ed emodi affabili possono avvicinare le proprie vittime in strada contattarli telefonicamente o agganciarli su internet dopo averne eseguito movimento e ricostruito abitudini scatta la trappola dall'incidente in cui è rimasto vittimo un figlio o un parente alla fuga di gas ad un rimborso oppure un improbabile recapito postale non mancano le offerte vantaggiose su una vasta gamma di prodotti sono solo alcune delle tecniche impiegate dai truffatori per introdursi in casa di persone sole e derubarle di denaro incontanti e preziosi soggetti fragili in laco gli anni che vivono da soli in casa e più esposti a questo tipo di raggiri diversi casi denunciati o segnalati nella Cese negli ultimi mesi e con l'arrivo dell'estate i trenelli in danno a persone che rientrano nella fascia della terza età aumentano con percentuali preoccupanti immaginavo che ci fosse questo fenomeno ma non così frequente così come il comandante dei carabinieri mi ha riferito per cui quando mi ha chiesto se poteva in alcune parrocchie in alcune chiese in occasione a volte della fine della messa dove abbiamo diversi anziani poteva fare questa istruzione perché il fenomeno appare che sia grave e ne vanno di mezzo le persone molto fragili e soprattutto sole come sono molti anziani che vivono a casa da soli quindi ho ben accolto questa iniziativa dell'arma dei carabinieri per cui so che già ha cominciato a muoversi ha cominciato a fare in alcune parrocchie prenotandosi negli erari opportuni piccole istruzioni di pochi minuti ma che sono molto utili a quello che ho capito e so anche che la reazione delle persone è molto positiva soprattutto di chi ha i genitori anziani e vuole protezione il capitano Rana ha fornito ai presenti utili contromosse da adottare in caso di comportamento enomero o poco credibile ha invitato i presenti e soprattutto anziani a contattare il 112 numero unico per le emergenze e chiedere supporto all'operatore consentendo l'immediato intervento di una pattuglia in servizio di controllo del territorio la partecipazione attiva dei cittadini è indispensabile nell'identificare e assicurare alle giustizie i truffatori agricoltura in ginocchio per la siccità ma anche per carenze di adeguate strutture rigue da Ponte Barca del Simeto dove attualmente si disperdono 400 litri di acqua al secondo il Partito Democratico chiede la dichiarazione dello stato di emergenza attraverso i capigruppo della Camera e del Senato dalle paretie di Ponte Barca si perdono circa 400 litri di acqua alla seconda della denuncia del Partito Democratico che raccogliendo le sollecitazioni degli agricoltori e degli allevatori oggi con i capigruppo alla Camera e alla Senato Chiara Braga e Francesco Boccia guidati sul posto dal segretario regionale Anthony Barbagallo ha rilanciato il grido di dolore di chi vede le campagne sempre più aride a causa della siccità ma anche perché le condotte di irrigazione non soddisfano più le esigenze produttive innescando anche una vera e propria guerra dei poveri poveri d'acqua eppure i soldi ci sono ma rimangono fermi sottolinea il PD così come all'indice tornano i 23 programmi di investimento nell'ambito del PNRR bocciati ma chiediamo a gran voce oggi da Ponte Barca che il governo faccia azioni concrete e non proclami nel momento in cui non piove da un anno in Sicilia e le falde sono ridotte alla metà il PD chiede un intervento semplice che il governo nazionale dichiari lo stato di emergenza per le campagne e non solo per le città e che finanzi tanti progetti che sono depositati presso gli uffici del ministero il commissario per la siccità ha individuato 27 interventi per 860 milioni di euro che ne finanziano quanto più possibile e quanto prima si intrecciano interessi ambientali economici produttivi gli agricoltori chiedono risposte noi chiediamo e di ripristinare le risorse che hanno tagliato sul PNRR quei 400 milioni erano stati stanziati dal Partito Democratico sono stati tagliati così come chiediamo che le richieste fatte dal commissario straordinario alla siccità vengano esaudite perché quello è il nodo l'accusa il governo è protagonista di una serie di fallimenti che adesso acutizzati dalla siccità vengono al pettine per avere risorse che accompagnano ad affrontare dell'emergenza a partire dalla siccità ma anche dalla dotazione di infrastrutture al mal governo della destra che sta mancando e bucando tutta una serie di obiettivi qui oggi siamo a registrare i danni la situazione drammatica dell'agricoltura penalizzata dalla scarsità di acqua e dalla mancanza di risposte della politica Ponte Barca 400 litri di acqua alla secondo che finiscono in mare e che gli agricoltori e gli allevatori reclamano come vitali due furgoni si sono ribaltati in due distinti incidenti avvenuti nel primo pomeriggio all'ingresso dello svincolo di Acireale dell'autostrada A18 Catania e Messina in direzione del capoluogo e Tenneo nell'impatto sono rimasti contusi due uomini il primo mezzo furgonato si è ribaltato poco dopo le 14.30 subito dopo un altro furgonato che procedeva nella stessa direzione di marcia si è capovolto dopo aver urtato contro un'altra auto sulla posto per l'operazione di messa in sicurezza della tratta autostradale interessato si è portato alla polizia stradale di Vigia del Fuoco l'incidente ha provocato forti rallentamenti e incolonamenti di autoveicoli e ancora adesso parliamo di prevenzione incidenti domestici un progetto dedicato ai bambini della scuola dell'infanzia iniziativa curata dall'ASP in sinergia con varie istituzioni scolastiche vediamo la prevenzione degli incidenti domestici per i bambini della scuola dell'infanzia compresi tra i 3 e i 6 anni un progetto di sicura valenza promosso dall'unità operativa di educazione e promozione alla salute dell'ASP di Catania nell'ambito del piano di prevenzione 2020-2025 il tutto in sinergia con le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza con particolare attenzione alle categorie a maggior rischio quali sono quelle dei bambini e degli anziani l'iniziativa è denominata Affi Fiuta Pericoli che ha fatto registrare l'adesione di 18 istituti scolastici della provincia di Catania con oltre 2000 bambini e 226 insegnanti che vi hanno preso parte coinvolgendo complessivamente 113 classi il progetto coinvolge i bambini dai 3 ai 6 anni è mirato alla prevenzione degli incidenti domestici è un progetto che noi abbiamo realizzato da 15 anni a questa parte nel territorio della provincia di Catania un progetto del Ministro della Salute ed è centrato molto sull'attività ludica si può parlare di prevenzione facendo delle attività che sono piacevoli che sono di facile apprendimento con un coinvolgimento che non dura un giorno ma dura tutto l'anno scolastico l'azienda sanitaria ha comprato dei kit didattici che distribuiamo in comodo d'uso a tutte le scuole che ce ne fanno richiesta c'è una fase di formazione degli insegnanti e poi gli insegnanti con il nostro anche con la nostra assistenza tecnica sviluppano nell'arco di tutto l'anno scolastico questo programma oggi a Palazzo Platamone la giornata conclusiva oggi è la festa finale con la presentazione dei loro elaborati e anche con un coinvolgimento oltre che dei bambini anche dei genitori perché nel progetto c'è una parte che riguarda i propri genitori i bambini apprendono analizzando i rischi che ci sono in ogni stanza e apprendono anche e dicono ai loro genitori quali sono le cose da cambiare fondamentale in tutto ciò la prevenzione primaria per far acquisire maggiore consapevolezza e promuovere comportamenti responsabili riconoscendo i pericoli per evitarli evento della sua figura di quello che ha dato di quello che ha lasciato a tutti noi così il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo ha annunciato ieri l'intitolazione del palasporto di Acireale al grande maestro Franco Battiato nel terzo anniversario di fatto della morte del grande artista siciliano un vero e proprio maestro che è stato ricordato in città con la messa arcaica e le canzoni mistiche eseguite dinanzi a migliaia di persone nella sontuosa basilica di San Sebastiano La messa arcaica fu l'ultima esibizione di Franco Battiato nel settembre del 2017 al Teatro Antico di Catania e ieri ha avuto tra i suoi interpreti anche Angelo Privitere il pianista cese che per 36 anni ha condiviso il percorso umano e artistico del grande maestro composizione sacra potente raffinata profonda un vero e proprio viaggio spirituale che ha scandito il percorso artistico di Battiato testimonianza della sua incessante ricerca intima e musicale un evento con le voci di Fabio Cinti e Aruna Nagai e con il nuovo quartetto italiano e l'orchestra e il coro del conservatorio Vincenzo Bellini di Catania la seconda parte del concerto ha lasciato spazio a dodici canzoni mistiche tra cui L'Ombre della Luce poi L'Ultima Emozione con il capolavoro immortale La Cura La pagina sportiva adesso con il calcio il Catania il Catania affronta nei quarti di playoff promozione per la Serie B domani sera Lavellino con gara d'andata a Massimino il ritorno sabato prossimo al Partenio ancora una volta lo stadio del quartiere Cibali sarà sold out c'è grande attesa per questa partita contro la squadra che ha concluso al secondo posto della regular season nella girone C e contro la quale il Catania ha perso entrambe le gare sia in casa che fuori ma si nutre un certo ottimismo per la partita di domani sera i tifosi rossazzurri vogliono sognare sino in fondo e malgrado in campionato Lavellino abbia battuto due volte i rossazzurri sperano che stavolta il Catania possa avere la meglio in occasione dei quarti di finale playoff contro la quotata formazione irpina classificata si seconda al termine della stagione regolare nella girone C match d'andata domani sera alla Massimino ancora una volta completo in ogni ordine di posti Zeuri spera di recuperare una forma fisica accettabile per affrontare al meglio l'undici di pazienza adesso siamo rimasti otto squadre va a incontrare sette squadre importanti una e comunque sia qualcosa devi concedere perché hanno giocatori importanti hanno giocatori forti i rossi importanti dunque il fatto che tu debba concedere qualcosa io parlo in termini di occasioni ci sta la legge del calcio non è che però su questo aspetto davanti porta e a prescindere da chi capita l'occasione possiamo fare qualcosa di più perché non è che ci arriviamo ci siamo arrivati anche con certe situazioni già preparate adesso andiamo a affrontare squadre importanti e dobbiamo essere paradossalmente più cinici perché a noi il gol in più ci serve adesso in questo momento non possiamo non l'avremmo fatto comunque giocare su due risultati nel predisporre la formazione che affronterà domani sera la Villino il tecnico rossazzurro dovrà fare i conti anche con lo stato di forma dei singoli visto il poco tempo che c'è stato per recuperare dalle fatiche di sabato sera la prepareremo cercando di mettere in campo i migliori e di preparare anche alcune situazioni sui cambi però lavoriamo su due partite nel senso affrontiamo la prima recuperiamo c'è poco tempo per prepararla a livello di campo sette squadre giocano su per giù quasi con lo stesso modulo su per giù dunque a livello tattico è più facile da prepararla appuntamento con l'intervista questa sera su re tv ospite in studio il presidente dell'associazione nessuno tocchi caino Rita Bernardini capolista di Stati Uniti d'Europa per il collegio Isole alle prossime elezioni europee parleremo di carceri giustizia antiproibizionismo liberazione anticipata speciale amnistia ed indulta con l'esponente dei radicali ci soffermeremo anche sulla situazione degli istituti di pena negli altri stati membri l'appuntamento con l'intervista è per le 20 e 30 replica domani alle 23 collegato in diretta anche il collega Francesco Bianco giornalista dell'agenzia ADN Cronos con questa notizia ci fermiamo finisce qui il nostro telegiornale che potete seguire tra poco sul sito re tv sui nostri canali social il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta è previsto per domani a partire dalle 14 ringrazio in regia Fulvio Ferrauto Carmela Fagone Emanuele Lamosomeci e vi auguro la buona serata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti